Salve a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale, continuiamo la serie Life is Strange per Android, quinta parte del quarto episodio. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Le targhe in teoria qui, penso. Allora. Coordinata. Un'esalazione. No. 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 quest. grazie del segui e quindi ora che devo fare? devo andare su gli altri due la parola è una parola è una parola è una parola grazie del segui è una parola è una parola ok 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 devo collegare i clienti quindi libro contabile i nomi in codice ok a posto si ma si ma ecco così le leggo life is strange per android qui c'è un rot quindi il primo lo selezioniamo qua vediamo qui il rot non ce n'è qui neanche qui neanche qui c'è due addirittura quindi selezioniamolo due deal con Nathan sul stesso giorno è qua di nuovo a posto ci sono gli ultimi indizi ciao ciao christian grazie grazie di mi piace raga allora dobbiamo sbloccare questo telefono quattro volte uno ho holy shit Nathan è veramente unhinge ma questi numeri potrebbero essere utili se c'è una sala d'amore meglio lo troviamo è una buona cosa che Chloe ha scoperto tutti questi file sull'aria flash drive c'è molti numeri qui seleziono ok Max let's blow this code up and go home ok ok Max I know we can snap all these pieces together roger that I'm going to study the board and try to connect all these dots let's start hacking in teoria dovrebbe essere questo no ops bad code sbagliato quindi non è il codice PIN codice PIN non può essere neanche perché sono quattro numeri grazie Matteo potrebbe essere un numero di questo come faccio a scoprirlo non è neanche questo proviamo a 3-9-8-8 come l'ho bloccato nooo il codice PUC questo di qui come faccio speriamo da scrivere speriamo da scrivere 8-7-8-9-7-8-0-8 vediamo allora 8-7-8-9-7-8-0-8 vediamo a posto ho fatto la chat di Nathan questa prepara la pipa ti paga il doppio farai bene ad avere soldi con te quindi queste sono dalle prove god Nathan hai stato lui a mandare il messaggio per favore non contentarmi al lavoro te l'ho già detto ed essere strafatto non è più una scusa questi sono affari tuoi non un hobby vuoi che ti ritetti come un adulto che sa fare le cose da sé allora stupisci mi voglio essere fiero di te ma non lo sono ancora ancora basta questa mi sa che è la parte più difficile forse è meglio guardare prima gli orari in cui hai consegnato alla 5.40 4.10 un po' Grazie. Io non ci sto capendo niente. Allora. Un attimo. Tu dici niente di che? Allora. 30 settembre deve avere 13. 4, 10. Vabbè è questo. Luogo sperduto. Va consegnato alle 11. 4, 10. Può darsi. Dovrebbe essere una chat del 4, 10. Può darsi sia questa. Sì. Apposta. Ma non era facile ragazzi. Questa è sicuramente il quale. Può dimenticare qualcosa di più vicino. Non. Non c'è nulla, Max. Non c'è nulla qui. C'è un buon bambino. Può dimenticare. Può dimenticare. Può dimenticare chi hava questo buon bambino. Può dimenticare. 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 Può dimenticare qui è come la nathan's private security, right? Può dimenticare. Può dimenticare. Può dimenticare, questa città è verona. Può dimenticare. Non ci si non con chiama. Ma che noi. Quindi abbiamo dovuto andare in quella farmhouse. Qui con noi. Sì, per favore che tu dirai questo. Poi potremmo dimenticare. Può dimenticare Warren da quale è stato la gara di Nathan. Può dimenticare. È solo la due. e che ne pensi che l'hai finito per me è un gioco che vale a parte che è un avventura grafica più che altro qui siamo quasi alla fine del quarto episodio credo sembra tipo una cosa non apete con la porta pura la colina di New York tipo mi immagino spunta una con la moto sega Chloe is so damn fearless where does that come from e e Watson we can safely assume that this ancient vehicle is not our suspect Chloe I found the front door come on oh yes Maximus rules god this is way too Blair witch I have goosebumps all over come on supermax hey check out this old chest a little louder Chloe jeez that is ancient jackpot old shit no look closer Harry Aaron Prescott and family donate new library to Arcadia Bay Prescott Industries celebrate grand opening the Prescotts bring bomb shelter boom to town nice scrapbook you search for more clues and I'll scope out the area yes all the other part yes old Prescott clippings but that can't be the only thing here Chloe would make it great detective too ok Ok, ok. Si camminavo sopra e sentivo il vuoto, il rumore era diverso. Ok. Chloe, puoi daremi una mano? Si camminavo sopra, si camminavo. Allora Ah, qualcosa che ho tirato in teoria dovrebbe salire così ok ciao ecco fatto Siamo un po' numerosi questa sera Life is Strange per Android What is this? Jackpot Do I even need to say how weird this is? He is dead Who built this kind of place? Beh Esatto Dai scendiamo Ok Ok, in teoria ci sono tre numeri un po' cancellati quindi sono quelli più usati Grazie 3, 4, 5 No, non è questo 4, 3, 5 No Facciamo 5 3, 4 Oh mannaggia 4, 3, 5 4, 3 Ah, ma non è 3, 2 Lo sbagliavo io Sbagliavo io Allora, 2 4, 5 No 4, 2, 5 No 4, 5, 2 5 5 5 4, 2 Oh, finalmente Sbagliavo io Now what the hell is this? Tuck tape in a bunker is always a bad sign. I've never seen so much pricey equipment before. What's with the Prescott's creepy art? Wow. What's going on between Nathan and his father? Use the computer, use the Jetta. I don't want to hear it stupidly in my name in public. Let's see what's in here. Oh my god. No. What's the gate? See. Rachel. Kate. Come on. Let's see what this shit is all about. We are. Okay. A binder marked Victoria, but it's empty. Look, the next one says Kate. No, no, Kate. No. God, I should have killed that bastard back there. Kate wasn't the first. All those binders are filled with other victims. Victoria has to be next. Nathan must be planning to dose her tonight at the Vortex Club party. Rachel. No. This can't be real. These are all, these are all post shots, right? Right? Chloe, look at her face. She's out of it. Maybe, maybe Nathan paid her a shitload of cash to do this. She probably would have. I don't think so. Why is he putting her on the ground like that? Where? The junkyard. Max, we have to find that spot now. Then we can see what he did. There's no way she's dead. No way. She posed for those pictures, Max. I know it. Please. Let's go. It better see. Oh my God. Rachel. Kate. Kate looks so doped up. She had least Kate was asleep through all this bullshit. This picture is framed different. Rachel is awake and fucking furious. Rachel has passed out and she has something in her mouth. What happened to her? This shot is so staged. I can't believe it's real. I can't. Yeah. Okay. Thanks, guys. I want you all right, man. Bye-bye. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.